Mamma mia Fazzò Fazzò Che sboro Fazzò Che sboro Ma Mamma mia Porca puttana Sono morti in trap Tutte le navere Sì abbiamo trovato Ho trovato il cadavere lì Dov'è l'astronave A destra In alto a destra Una merfazione Che cazzo Allora io considerate Che io venivo da Da navigation E poi sono salito Ho trovato i corpi C'erano quattro persone Dove ci sono gli asteroid Dove avete trovato i cadaveri C'eravamo io e Gianco In admin Gli altri non lo so Quindi se quattro persone Erano lì E due Tu dove eri Titti Scusami Stavamo guardando il com In admin Dove c'è la carta di credito Sì ma Sì però io non ho mai detto Di aver trovato i cadaveri Io ne ho trovato solo uno E poi sono salito Ho trovato i corpi E l'altro dove è? Che cazzo ne so Bella domanda Ho perso Comunque Una cosa che io posso dire E poi adesso di Titti È che io ero in caffetteria Col fasone E quando sono spenti le luci Lui non è venuto sotto A sistemarle Cazzo dici Io fa Tu non sei venuto sotto a sistemarle Allora Adesso quando avete chiamato Quando avete chiamato adesso Fa zero in shield con me Io ho skippato Io ho skippo Non lo so Sotto possiamo ammazzare la coppia Noo Noo Oh! no vabbè ce l'avete fatto fuori tutti mamma mia ragazzi io stavo andando a chiamare le majesty perché avevo visto qui se lo spodacino tagliare il collo dalle telecamere frate ho chiuso tipo 16 porte guarda se possiamo come ma raga io ero fazione ad aspettare uno da un lato e uno dall'altro army of two raga io ho detto cazzo è morto ho cominciato a scappare volevo provare il primary report ma ero troppo lontano ho detto vado a prendere la porta io te la stavo per trollare perché era andato out of range era andato quando l'avevo ammazzata trovato il cadavere di janko davanti al al lato sinistro top dove bisognava fare sta skill qua però non morire non so come cazzo si chiama io caffettino ce l'ho nella stanza accanto ragazzi io stavo in quella là dove si controlla il battito cardiaco a me mi puzza tt2 ho votato k frenesi subito per il nome comunque io non direi chi vuole io ho fatto l'ambraccio come se è fermato tu riterma votate senza dire ma 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 in base a cosa non ho capito che è successo non sia cazzo non c'è la posso fare non c'è la posso fare non c'è la posso fare ma perché mi impegni a capire qualcosa su sto gioco del merda che taglio ragazzi che taglio gigante ragazzi è morto il masseo gabbo vorax no il cerchio si stringe gabbo e vorax non possono essere il masseo è morto allora ragazzi io ho informazioni anche al di là di dove è stato trovato il cadavere allora secondo me gabbo e vorax non possono essere per il semplice fatto che eravamo tutti e tre a controllare tipo eravamo tutti e tre ci siamo ritornati nella zona là del battito cardiaco li ho visti uscire insieme io sono andato da una parte sono ritornato un attimo indietro ho controllato il battito cardiaco il masseo era morto e sono andato a cercare il corpo sei sicuro sono sicuro non lo so siccome io non sono voterai Jimmy io come fai a sapere che era destra il corpo io l'ultima volta che ho visto allora gabbo e vorax sono usciti dalla porta immaginati la sala quella là del battito cardiaco sono usciti a destra entrambi e io sono andato verso sinistra per poi fare un doppio passo tornare indietro andare a ricontrollare il battito cardiaco e il masseo era già morto ho visto il battito cardiaco del masseo sono uscito dalla porta dove siete usciti voi sono andato a electricity ho cercato nella parte sinistra della mappa perché secondo me noi stavamo a destra più o meno non poteva stare a destra io mi vorrei chiesto un mesetto ce la fai Fazzu adesso lo puoi fare secondo me è un mesetto non si dice a chi vota di solito la serie 5 però ben tornato Fazzu chiudersi bravo c***o addosso mettiamo un po' desigrate il detective Conan ma che qua ce vuole un pochetto tu non ti puoi chiamare K frene pensate scine senza il primo voto no frate io ho fatto l'amaran macicicoco e è finita solita il mouse quindi eri già eri già fattuto allora grazie per i 6 minuti sono bentornati bla 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 ma che stiamo a fa ragazzi ho visto il chakifrene con fare sospetto ok ci stanno le visual o no non si vedono ok la tattica del reattore che adesso si sveglia perpendicolare ma che c'è la tattica del reattore mega sinto tolka allora l'ho trovato in basso tutta a sinistra dove si fa anche tipo la si mette la benzina al reattore lower engine lower engine e perché mi stavo facendo una una task e e arrivavo da electrical l'ho trovato lì morto proprio in lower engine perché mi stavo da electrical l'ho visto che c'era il reattore che si stava attiva e quindi stavo andando al reattore hai visto qualcuno entrare e uscire non ho visto completamente nessuno per tutto il game me l'hai visto al task si vedono o no 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 non te vedo ok 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 io mi sono ritrovato qua c71 che io un attimo ho imbruttito con la coda dell'occhio perché non sapevo se l'hai visto al task se vedessero o meno allora io andrei next però ehi aspetta aspetta ti stava elettricità te fa uno screen te fa uno screen te l'hai visto te fa uno screen però non hai incontrato deluxe perché veniva a shield vabbè sei arrivato a destra vabbè sei arrivato a destra vabbè sei arrivato a destra ho senso che non l'ho visto io a sparavano vabbè deluxe mi puzza ma si va io c'ho delle puzze di merda me le terrò per me a me the real the real deluxe me puzzicchia un po' di sottopalla sudato come però in realtà mi puzzicchia di sottopalla sudato il mister j touch non so perché me puzza un po' di palle mister j touch I don't know why I don't know why sento uno smell oh edl è tutto strano chiude le porte ciazzi ciazzi questo è questo è uno che ne sa Gianmarco Tocco ma ha sgozzato davanti agli occhi ma ha sgozzato davanti agli occhi il marzone Gianmarco Tocco Gianmarco Tocco in admin ragazzi in admin non è admin non è admin scusate l'ho visto l'ho visto scusatemi quello delle telecamere security me l'ha ucciso me l'ha ucciso davanti agli occhi Maceo ha riportato ma che cazzo di cazzo di cazzo di sei un falso del cazzo è un mega sito a me stava seguendo Chaghi Frene a me stava seguendo Chaghi Frene perché pensavo mi sono cagato in mano io ho fatto un bait mi sono tornato indietro sì sono risalito mi ha visto Zano che ho fatto sta cosa e mi sono ritrovato scusate perché io stavo scendendo con Chaghi Frene che me stava dietro io sono risalito ma c'è la cosa confusata potreste aver confuso Maceo aspetta un attimo aspetta un attimo perché io l'ho visto scendere era il Viola ma magari è confuso con Chaghi Frene no era il Viola mega sinto è il Viola Viola era no io sono abbastanza ma perché ho stato avuto ma perché non fate guardare me l'hai ucciso tu davanti agli occhi vecchio che poi che poi ma se non è riportato ah raga è una testimonianza oculare se non è mega sinto è per forza Edward De Masseo ti messo Eject credo che fai stai no no non è Eject non è Eject si vede allora Masseo sei in coglione perché molti ce inculano io voto il Masseo io voto il Masseo io voto il Masseo ma molti ce inculano perché tanto vedono che io non so e te ce inculano con Giamma anzi me l'hai ucciso davanti in primo luogo me l'hai ucciso tu davanti vecchio no regate porca madonna che strano che prima io ho detto ma se sta attento che parli poco sta attento te guardo e poi stranamente me sta dà la colpa a me ma va bene io mi fido tutte le cose sbagliate ma porco Dio ma io ho sbagliato vado a fare lo stesso perché invece devo da cosa ho votato Zano che ecco vabbè sta andando fuori uguali no ok e allora il Masseo si chilling deluxe Masseo fazzo le regole le regole sono regole ragazzi le regole sono regole le regole sono regole ma chi è un Masseo fuori ah si hai chiamato tu Blur no no ma sei matto no l'altro è Delu per me pure è Delu per me pure è Delu dai Gianco parla parla Gianco Gianco mo vuole parlare io inizio game raga che quando ci hanno chiuso le porte in storage Delu ha detto che è andato a shield spara non l'ha mai visto e lui stava aspettando la porta che si aprisse per andare verso elettrical proprio dove è morto il primo cadavere ma non è vero io sono andato a destra a shield ma che cazzo stai a dire ma si è o il Masseo è Delu o Delu frene vabbè i testomilanzi e culari funzionano così alla fine o è uno o è l'altro l'altro per me è 100% in teoria è Delux ma che cazzo è FIFA Street è diventato sto gioco oh e che c'è sta andando per culo no possiamo anche aspettare ragazzi possiamo anche aspettare non abbiamo fretta di premere l'interruttore dove dove io ho visto tre teste in elettrica chi c'era era io io e il fazone chiusi fuori perché c'erano tre teste perché sono entrati adesso quando hai chiamato eravamo dentro noi tre e c'eravate tutte e tre non siamo stati insieme perché noi abbiamo trovato Delu già dentro elettrica e io e il fazone siamo rimasti chiusi fuori da storage tutto chiuso e però da dove siete arrivati da storage no caffetteria storage elettrica te Delu io ero dentro elettrica mi hanno chiuso le porte è prima ho fatto il giro da sinistra da storage sono andato verso sinistra al over in genio sono tornati indietro e mi sono rimasto chiuso dentro dov'era il cadavere Gianco? Delu io non ti ho mai visto ed ero io lì in lower engine dovrai vivere la stessa cosa? dov'era il cadavere? noi adesso hai trovato il cadavere lì e noi adesso eravamo noi tre di dentro cosa vi ho detto io in inizio al gioco che Delu è andato in un punto che spara palle non ha mai visto ma spara palle era da un'altra parte era sopra io ero sono andato in shield e non ho beccato nessuno era l'unico che mi appoggiava la mia teoria beh potresti averlo ucciso hai chiamato te in questo momento non ho bisogno di uccidere e niente so quelle risposte tu non puoi molto obiettare io e te siamo siamo nei mare Ronaldinho io ho detto mille cose io comunque a me lo buzzava per il devolo anche a me sono incastrato all'inizio game non potevi fare niente e metti sta soundboard bro gg 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 però l'avevo presi raga dall'inizio sto game grazie a tutti